Siamo qui a Legnano per sostenere la lista di Fratelli d'Italia con Carolina Toia, Sindaco, per ribadire le priorità di Fratelli d'Italia per una nuova stagione di buon governo a Legnano. Innanzitutto la sicurezza. La sicurezza è precondizioni di libertà. Una città sicura e vivibile consente ai suoi cittadini non solo di uscire tranquilli per strada, ma anche di poter svolgere le loro attività economiche senza rischi e investire, quindi sullo sviluppo e la crescita di questa importante città della nostra Lombardia. Poi ancora un'attenzione al sociale, all'ambiente inteso come un elemento fondamentale per crescere insieme le attività economiche. Queste sono le proposte di Fratelli d'Italia anche qui a Legnano. Siamo convinti di ottenere un grande risultato con una lista molto forte e competitiva.